Referendum confermativo, the day after. Al suo appuntamento con la storia, Gela si presenta con 23.725 cittadini che scelgono di andare alle urne e di scegliere quasi plebiscitariamente di entrare a far parte del libero consorzio di comuni di Catania. Più di 40.000 altri aventi diritto invece scelgono di restare a casa. Oggi è il giorno della riflessione su questi numeri, ma è anche il giorno per guardare avanti e non mollare il progetto in nome di tutti quei cittadini che nel progetto stesso ci hanno creduto. Si scandaglia il dato normativo e si organizzano staff di esperti e legali per percorrere la via del diritto. Si apre una porta all'ipotesi fondata che il referendum confermativo non ammetta quorum. Certo, raggiungere un'alta percentuale di consensi avrebbe dato un'impronta diversa, ma per chi ci crede e ha una speranza la questione non è chiusa. Oggi abbiamo incontrato il portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone, e il primo cittadino, Angelo Fasulo. Ieri sera, durante la trasmissione, peraltro nella vostra emittente, approfondendo l'argomento con alcuni avvocati, siamo arrivati alla conclusione che il referendum confermativo in effetti non necessita di quorum. Questo ne prendiamo coscienza adesso e cercheremo di dare voce ai 24.000 che si sono pronunciati attraverso questo referendum che non necessita di quorum. Quindi spingeremo alla Regione per far sì che questo referendum venga validato anche dalla Regione e si possa andare avanti. Quindi una porta sarebbe rimasta aperta per confortare anche queste 24.000 persone che ieri hanno sposato totalmente questo progetto, Franzone. Il dato è un dato confortante, nel senso che 24.000 cittadini sono comunque tanti? Voglio confortare i 24.000 cittadini e voglio dire loro che hanno dato grande prova di attaccamento alla città. Grazie a loro, ripartiremo da loro, grazie a loro possiamo cambiare la città. Quello che adesso dobbiamo fare è soltanto attendere che la Regione mandi un segnale su questo avvenimento e su questo referendum di tipo confermativo e vedere cosa poter fare in futuro. Franzone, cosa vuole dire ai 40.000 cittadini che sono rimasti a casa e hanno scelto di non andare a votare? Beh, che a volte è meglio non vedere una partita o non guardare la tv o non passeggiare per l'estate e scegliere il futuro dei propri figli e della città. Ieri potevamo dare una grande prova a livello nazionale superando il quorum del 50%. Abbiamo deciso di delegare soltanto 24.000 cittadini a decidere, bene, quei 24.000 cittadini spero tanto che possano realmente decidere per tutti, visto che gli altri sono disinteressati nelle decisioni della città. Non appena la Commissione si riunirà e raccoglieremo tutti i dati anche in relazione a quello che può essere considerato come parere condiviso, andremo avanti per l'esito definitivo. Dico che questa è la prima volta che il problema si pone in Italia e in Sicilia ovviamente anche a Gera perché mai nessun referendum confermativo era stato celebrato in questo modo e di questo genere con questo oggetto. Quindi dobbiamo andare cauti e dobbiamo capire ufficialmente quale sarà la comunicazione ma il risultato in ogni caso è positivo.